Ma salve a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Krapik Dovete solo sapere che questo video è stato registrato nella lontanissima season 1 del capitolo 2 di Fortnite È un video insieme a Yin, nella modalità incontri ravvicinati Abbiamo provato a fare delle skybase Vi giuro ho trovato questo video vecchissimo, dovevo per forza farvelo vedere perché è troppo divertente Spero vi piaccia, lasciate like, commentate e niente Bella! Allora vuoi fare partire la cosa? Da tipo qua Dalla montagnetta, dalla montagnetta, da qua Sì, ma c'è la safe, c'è gente davanti Ma ti va, c'è cura di poco No, 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 io fra ho 700, 200, 300 C'è, oh, stanno vendo questo di noi Ah, zzi, zzi, zzi VIVU, VIVU, VIVU No, 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 ti prego, ti prego Ma che lo sto Ma quali sono graduti? No, ci sto morendo Vabbè, stai morendo, che fai Vabbè, stai morendo, che fai Vabbè, stai morendo Vabbè, stai male No, no, no No, no Non mi sale, ok Non mi sale, sono morto Non mi sale Vi ho scaricato il costo Sto andando a me, ando verso 9, la guarda qua Mi facciamo cadere, vi facciamo cadere, vai vai Ciao ciao è inghilizia tolarato andate via attaccati no io non ce la faccio ci aiuto si è scaricato il coso si è scaricato Davanti a noi, non c'è un problema No, serio? È una banana, è una banana Capaglio di pusho, porco Ho le granate, fra che cazzo fa? Aspetta pingamele, pingamele pingame Ti sto salutando, che carino Li faccio cadere Collaboriamo, collaboriamo Vai, vai, vai No Sì, è di puttana Come? Collaboriamo Tirire granate, porco Mori dai figli di puttana Ok, li ho fatti cadere, gang Li ho fatti cadere Guarda quelli, guarda quelli No, aspetta, quando salgono qua, quando salgono qua Vai, vai, prendi l'air drop, l'air drop Ok, sì Vediamo che c'è Oh, bella No, non stanno salendo, non stanno salendo Ma perché devi spiegare le shockwave E' rientrato, è rientrato Penso perché questa shockwave Me la vedo nel quel muretto e te ne vai Ah, no, no, sono uscito fuori Che cazzo fai? Nooo 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 Dai, Gino Non fai tanto 500 i dati Dai Gino Ho una kill, stonks For cazzino Ho fatto pazzamai Per la brano Per la brano Non ci credo Non ci credo Troppi bambini in Cina morti per il corona Ma è serio? È vero si muore per questo virus? Sì, compa, 26 persone sono morte Ancora, cioè, 26 persone altro ieri È una cosa seria Però penso che in Italia non arriverà mai L'Italia è prima in Europa per numero di contagi Sono oltre 50 le persone positive al coronavirus Nooo 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 Hai rotto il cazzo Nooo Hai rotto il cazzo Ma si stanno fai tanto seriamente le persone? Ah le Linda, in quella casa C'ho un med Used Ce l'ho più Guarda che potaccato Guarda come si fa Guarda la mia skin Guarda Guarda Vabbè te l'ho più No no, ce l'ha pure lui Come c'ho pure lui? No, non, non C'era costruisci, costruisci, costruisci No, 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 che cazzo No, ti mi hai fatto cadere, ti mi hai fatto cadere Ti mi hai fatto cadere No, io ti puttana Che cazzo scendi, coglione Vai, vai No, no, no Nice Vabbè, io mi buco Ora lo spasso Questo sta tryhardando Questo sta tryhardando Oh, la scala è ditada Oh, la scala è ditada Oh, la scala è ditada